Sesta corsa premio Issel, miglio per anziani di categoria G con ora Pronobis numero 2 che in salchia al quale Marcello Di Nicola sostituisce Romolo Sani. In prima fila ci sono Tarascora, Pronobis, Over of Cloud, Tech of Wellcome, Solentu Frente, Top Quark, Etalete e Deymar. Seconda fila per Shelford Run e Umbi. Stacco della macchina con Over of Cloud che parte molto forte all'interno e reagisce a Solentu Frente. Poi c'è Tarasco che costringe a largo Tech of Wellcome dall'esterno. Si lancia in avanti anche Talete e Deymar, mentre Solentu Frente si è accodata a Over of Cloud. Cloudlet, poi ancora Tarasco, quindi dalla seconda fila veloce Shelford Run al cui esterno cerca di risalire Talete e Deymar. Trascinandosi Tech of Wellcome, poi a chiudere Umbi, Top Quark e ora Pronobis. Primo mezzo giro decisamente veloce da parte di Over of Cloud che viene però ora aggredito da Talete e Deymar e non si oppone all'avversario. Sfila in testa Talete e Deymar nei confronti di Over of Cloud e Tech of Wellcome all'esterno. Solentu Frente, Tarasco, Shelford Run e tutti gli altri. Notevole l'andatura imposta da Talete e Deymar che ora però ha parzialmente ripreso fiato. Comunque si giunge a metà gara in 59-8. Talete e Deymar leader su Over of Cloud e Tech of Wellcome all'esterno. Poi ancora Solentu Frente, Tarasco che accenna a spostare dalla corda. Over of Cloud che sembra poter controllare Tech of Wellcome per anticiparlo. Mentre Talete e Deymar continua a condurre. Poi lungo la corda rientra bene Solentu Frente. Talete e Deymar in vantaggio su Over of Cloud e Solentu Frente, Tech of Wellcome e Tarasco. Poco prima dell'ingresso in retta Talete e Deymar in vantaggio Over of Cloud nella sua scia che accenna a spostare. Ma Talete e Deymar allunga sempre in vantaggio. Poi emerge in terza posizione Solentu Frente. Talete e Deymar che allunga nei confronti di Over of Cloud. Poi Tarasco che attacca Solentu Frente. Talete e Deymar che si mantiene in vantaggio. Stacca da Over of Cloud per il triplo di Roberto Vecchione. che conclude facile vincitore con Talete e Deymar su Over of Cloud. Mentre per il terzo posto emerge infine chiaramente Tarasco su Solentu Frente. 7-3-1 l'arrivo ufficioso della sesta di Capanelle con Talete e Deymar che in categoria G era ovviamente declassato. ma ha legittimato la sua affermazione con un percorso in 1'58-2 media ufficiosa di 1'13-9 per l'allievo di Nino Palanga. Con in salchi Roberto Vecchione al triplo in giornata Over of Cloud. Oggi estremamente veloce in avvio ha ceduto strada al vincitore e così ha conservato nettamente la piazza d'onore mentre Tarasco è emersa al terzo posto superando Solentu Frente. 7-3-1 l'arrivo ufficioso della sesta di Capanelle. 8-3-1 l'arrivo ufficioso della sesta di Capanelle.